Da tempo diciamo che il TTIP e CETA, i due accordi che l'Unione Europea sta trattando rispettivamente con gli Stati Uniti e con il Canada, sono un rischio veramente molto grave per la salute dei cittadini e per il nostro commercio. Chi li descrive come opportunità nasconde quelli che sono i rischi sia per la salute, sia in termini anche di globalizzazione e quindi di incapacità dei nostri produttori a fare fronte a una grande ondata di competitori a basso costo. Finalmente sembra che le cose stiano dando ragione a noi. TTIP è in crisi, CETA, il Ministro Calenda sta facendo di tutto per portarlo avanti insieme all'Unione Europea, ma gli ostacoli oggettivamente sono insormontabili. Noi ci opporremo sempre che questi trattati possano essere approvati sulle spalle dei cittadini, senza che ci sia una voce dei Parlamenti e senza che la gente possa conoscere il contenuto. Abbiamo chiesto di poter leggere il contenuto degli stessi trattati e ci è stato negato. E quando sono stati messi a disposizione lo sono stati fatti con tali limiti da rendere impossibile una comunicazione pubblica degna di questo nome.